Con un netto ed inequivocabile 5-0, il Palermo Calcio 5 vince il big match dell'ottava giornata di C2 contro il Monreale. Una vittoria netta con la migliore prestazione della stagione per il rosa-nero di Mr. Calandra. Per il Monreale una sconfitta pesante che però non dovrebbe lasciare strascichi vista la situazione in classifica. Infatti il Monreale rimane al primo posto, anche se vede ridursi a due punti il vantaggio sulle seconde, il Palermo Calcio 5 ed il Bisacquino. Bisacquino che ha avuto la meglio sullo Sporting Alcamo di Mr. Raineri al termine di una partita equilibrata inchiodata sullo 0-0 fino alla metà del secondo tempo e poi decisa allo scadere dai padroni di casa. Ma ecco il quadro completo dei risultati dell'ottava giornata. Come detto vittoria al città di Bisacquino sullo Sporting Alcamo per 2-1, grazie a Pantelleria a Palermo Fussal 6-0. Il Marsala Fussal torna alla vittoria dopo tre turni contro lo studio De Santis con un netto 10-3. Vittoria in trasferta per l'ex fanalino di coda San Vito che vince 5-1 sul campo difficile del Mistral Carini. Come detto Palermo Calcio 5 e Monreale 5-0, poi a seguire pareggio per 5-5 tra Partini Codace e Villauria. Infine vittoria casalinga del San Gregorio Papa contro il Real Trabbia per 4-2. In classifica guida il Monreale Calcio 5 con 18 punti, seguono Palermo Calcio 5 e Città di Bisacquino con 16, poi Sporting Alcamo e Marsala Fussal 15. A seguire il Villauria 14 punti, Real Trabbia 12, ad 11 punti Partinico Codace e San Gregorio Papa, grazie a Pantelleria 10, a 7 punti Mistral Carini e Palermo Fussal, a 6 San Vito Lo Capo. Chiude lo studio De Santis con 4 punti. Chiude lo studio De Santis con 4 punti, Real Trabbia 12 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 punti, Real Trabbia 13 punti, Real Trabbia 12 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 punti, Real